Il giubbotto tipico a cappello che apre e fugge. Questo è il giubbotto da maniaco. Fugge? Una volta coperto? E sotto come lo sai, la volta che ha aperto. E una volta che ha aperto. C'è un ciclo 4, 4, 6. Ale! Saluta! Io non ho capito, dove stiamo andando? Mi ha tutti da mano. È l'Ale! Lei è l'Ale, saluta l'Ale. Ciao Ale! C'è, c'è, saluta! C'è, c'è, saluta! Io amo questi video, saluta! A chi? Saluta YouTube! A tutti! A la community di YouTube! Guardate, questo è Urbino by Night! Urbino by Night, quanto mi manca! Quanto, quanto mi manca! Questo è il gula! Questo è il gula, guardate che burdello! Che cacchio! Io voglio ritornare al gula! Dove vanno? Eh, ma questi sono troppo giovani per me, capito? No, dove vanno loro! No, no, no! Balliamo! Eh?